Oggi per gli incontri del mercoledì presso il Consiglio dell'Ordine abbiamo parlato del procedimento disciplinare e io ho letto innanzitutto in esordio la formula di giuramento degli avvocati che rendono al momento della immissione nell'albo degli avvocati. Quindi questa formula recita così consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale mi impegno ad osservare con lealtà onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento. Se tutti noi ci ricordassimo di questo momento il momento del giuramento che non è un momento soltanto formale o cerimoniale ma è un momento fondante della nostra professione. Se tutti ci ricordassimo che esistono questi valori che sono enunciati nella formula del giuramento che sono la lealtà, l'onore, la dirigenza ma ne potrei aggiungere altri la probità, la competenza, la correttezza. Se tutti ci ricordassimo di questi valori e dessimo a questi valori il significato essenziale, imprescindibile e inderogabile che hanno, probabilmente non incorreremmo nei procedimenti disciplinari o non incorreremmo con tanta facilità come purtroppo succede. E questo succede essenzialmente secondo me perché si sottovaluta il procedimento disciplinare e gli effetti che poi le ricadute che poi hanno nella professione non soltanto sulla dignità e la reputazione dell'avvocato ma anche proprio nella materialità, nella quotidianità della vita di un avvocato la cui attività professionale può essere sospesa o addirittura può cessare del tutto in caso di radiazione. Quindi io questo ho cercato di far capire del procedimento disciplinare, dal procedimento disciplinare non si può prescindere ma la formula migliore, la modalità migliore per evitare di incorrere nelle sanzioni disciplinare è quella di tenere sempre dentro di noi e nel caso in cui ce ne dimenticassimo di consultare il codice deontologico e di andare a ritrovare questi valori dai quali noi non possiamo neanche un giorno della nostra professione allontanare.